Ciao, oggi è venerdì 29 gennaio 2021 e domenica potreste ritrovarvi in zona gialla. Io sono Alessio Balbi e questo è Newsbox, il podcast di Repubblica che ogni mattina vi spiega in maniera semplice e senza dare niente per scontato le notizie utili da capire prima di andare a scuola, all'università o al lavoro, quelle che ci toccano tutti. Oltre a vedere come dovrebbero cambiare i colori delle regioni, oggi vi spiego anche cos'è questa storia di GameStop di cui forse avete sentito parlare. Lunedì, quando ci sentiremo per la prossima puntata di Newsbox, molte regioni italiane che ora sono in zona arancione saranno tornate in zona gialla. Prima di vedere quali saranno, vale ricordare un momento in che modo vengono decisi questi colori e soprattutto con quali tempi, perché ci sono regioni che pure avendo i dati giusti per tornare in zona gialla resteranno in zona arancione e bisogna capire perché. Allora, innanzitutto, il fatto che una regione sia gialla, arancione o rossa dipende da una serie di parametri, sono più di 20, ma i più importanti sono il cosiddetto indice RT e l'affollamento degli ospedali. L'RT è un numero che indica quanto il virus è in grado di diffondersi a partire da un singolo contagiato in ogni dato momento. Quindi un indice RT a 1 significa che ogni contagiato di coronavirus in media rischia di trasmettere il contagio a un'altra persona. Un indice RT a 2 significa che ogni contagiato in questo momento in media rischia di infettare altre due persone e così via. Una regione diventa gialla se il suo RT è inferiore a 1, quindi se i contagi hanno imboccato una tendenza a calare nel tempo. Ma questo non basta, deve avere anche un livello di rischio basso o moderato. Cioè il sistema sanitario della regione deve essere in grado di gestire i malati, quindi gli ospedali e le terapie intensive non devono essere troppo piene. Ogni venerdì al Ministero della Salute si riunisce la cosiddetta cabina di regia, col ministro, gli esperti del Ministero della Salute e gli esperti dell'Istituto Superiore di Sanità. E questa cabina di regia guarda i dati. I cambi di colore scattano dalla domenica successiva. E qui entrano in gioco i tempi, perché i cambi di colore avvengono ogni 15 giorni come minimo. Quindi una regione che finisce in zona arancione, per esempio, deve restarci almeno due settimane per sperare di scendere poi in zona gialla. Ma i dati da zona gialla, quindi come dicevo l'indice RT inferiore a 1 e il rischio basso, anche questi dati devono essere confermati per due settimane consecutive. Quindi, tutto ciò detto, è probabile che nella riunione di oggi la cabina di regia porterà in zona gialla Calabria, Emilia Romagna e Veneto. Mentre Lazio, Piemonte, Val d'Aosta, Liguria, Marche, Friuli, Venezia Giulia e Abruzzo, che sono in zona arancione dal 15 gennaio e che quindi domenica potrebbero tornare in gialla perché sono già passate due settimane, resteranno probabilmente in zona arancione, perché hanno dati migliori, ma solo dalla settimana scorsa. Quindi chi abita in queste regioni, ripeto, Lazio, Piemonte, Val d'Aosta, Liguria, Marche, Friuli, Venezia Giulia e Abruzzo, è probabile che debba aspettare domenica 7 febbraio per tornare in zona gialla, sempre se la situazione resterà migliore come adesso. Stesso discorso per la Lombardia, reduce dal pasticcio che abbiamo raccontato dei dati sbagliati che l'avevano portata in zona rossa, la Lombardia resterà in arancione ancora sicuramente questa settimana. Comunque, se avete curiosità o domande su questo tema, ma anche sulle altre cose di cui abbiamo parlato questa settimana, stasera, venerdì alle 19, sono in diretta sul canale Instagram di Repubblica proprio per rispondere live alle vostre domande. Ora ci avventuriamo in un terreno molto affascinante di cui non avrei mai pensato di parlare qui su Newsbox, che è quello, tenetevi fortissimo, della finanza. No, no, non scappate, seguitemi un attimo, prometto che ne vale la pena. Allora, immaginate per un attimo di avere un negozio, un negozio di videogiochi. Arriva la pandemia, tutti chiusi in casa. Tutti chiusi in casa a giocare ai videogiochi. Che bello per il vostro negozio di videogiochi, no? No. Perché tutti giocano ai videogiochi, ma tutti giocano ai videogiochi perché devono stare chiusi in casa, lo ricordate, no? E quindi i giochi li comprano su Amazon, li scaricano dagli store, ma al vostro negozio non ci viene nessuno. E quindi chiudete e perdete tutti i vostri soldi, no? No. Perché questa cosa che vi ho descritto sommariamente, e che sembra evidente anche a noi che non capiamo niente di economia, sta capitando davvero, in formato gigante e in un modo completamente imprevisto. C'è una catena di negozi che si chiama GameStop, forse la conoscete a negozi anche in Italia. GameStop, a causa del lockdown, se la passa molto male, ma dall'inizio dell'anno le sue azioni in borsa sono passate da 18 a 300 dollari. Sì, avete capito bene, una catena di negozi sull'orlo del fallimento ha aumentato il suo valore, se ho fatto bene i calcoli, del 1600% in un mese. E com'è possibile? Oh, secondo gli esperti di queste cose, la pandemia ha lasciato la gente a casa non solo a giocare ai videogiochi, ma anche a giocare in borsa. Sì, si dice proprio così, giocare in borsa. E qualcosa vorrà dire, se lo chiamano giocare. Praticamente c'è questo esercito di piccoli risparmiatori che si incontrano nelle chat e sui social. In particolare negli Stati Uniti usano una piattaforma che da noi è rimasta abbastanza di nicchia, si chiama Reddit. Insomma, questi piccoli investitori si incontrano online e decidono di investire tutti insieme su un titolo. Lo comprano e lo rivendono rapidamente a prezzi sempre più alti. Ecco, è quello che, chissà perché, hanno deciso di fare proprio con GameStop. Si vede che gli piacciono i videogiochi. Ora cerco di semplificare al massimo un ulteriore meccanismo che non padroneggio, ma mi pare di capire che, quando si innesca una dinamica di questo genere, cioè di titoli di aziende che salgono contro le attese, i grandi operatori di borsa rischiano di perdere un sacco di soldi. Perché praticamente quelli bravi a giocare in borsa e con un sacco di soldi amano fare un gioco che si chiama vendita allo scoperto. Praticamente individuano un'azienda messa particolarmente male, prendono in prestito le sue azioni, le vendono subito e poi le ricomprano quando, come prevedevano, hanno perso di valore. E quindi, così facendo, guadagnano soldi sulla differenza tra il prezzo a cui le avevano vendute e quello a cui le hanno ricomprate. Detto praticamente, è una scommessa al ribasso, una scommessa che permette di fare un sacco di soldi. E che, come effetto collaterale, se un'azienda è già messa male di suo, finisce di distruggerla, ma vabbè. Ecco, con GameStop i grandi investitori volevano fare la stessa cosa, ma i piccoli risparmiatori coalizzati su internet gli hanno messo i bastoni tra le ruote. E per non perdere i soldi della loro scommessa, i grandi investitori che hanno fatto? Ovviamente hanno scommesso il contrario. Hanno scommesso tutto sulla crescita di GameStop. Così, senza senso, anche se i negozi di GameStop stanno chiudendo in tutto il mondo. Solo per non perdere i loro soldi. E così, il titolo di GameStop in borsa è esploso. E poi ieri di botto ha perso il 56%. Insomma, tutto un grande gioco, una battaglia reale di Fortnite, un mega party di Among Us, col piccolo particolare che nei negozi di GameStop ci lavorano persone vere. E anche per questa settimana è tutto. Newsbox torna lunedì. Se avete domande, scrivetemi su Instagram. E se mi state ascoltando su Apple Podcast, lasciate un bel voto e una recensione. Mi fa piacere e ci aiuta a crescere e a migliorare. Ciao e buon fine settimana.